La Puglia dice no alle trivelle in Adriatico e nello Ionio. Lo fa attraverso il Consiglio regionale che ieri ha provato all'unanimità le delibere con i quesiti referendari per attivare la richiesta di referendum abrogativi di quelle parti del decreto sblocca Italia e del decreto sviluppo che aprono alla ricerca e all'estrazione di idrocarburi in mare. La decisione arriva dopo quella della Basilicata del 19 settembre scorso e quella del Molise che sempre ieri in Consiglio regionale ha espresso parere favorevole alla richiesta referendaria. Ressi che avvicinano sempre di più il traguardo delle cinque assemblee il cui voto è necessario a promuovere dinanzi alla Cassazione la richiesta di referendum abrogativo. Pochi giorni fa il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, aveva incontrato negli spazi della Fiera delle Vante di Bari i presidenti di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Marche e Molise in occasione di un vertice sul tema delle trivellazioni. Un confronto nel corso del quale è stata ribadita la volontà delle regioni del sud di impedire lo sfruttamento petrolifero in mare, programmando una serie di iniziative istituzionali congiunte. Il parere definitivo di legittimità, scritto in una nota della regione, spetta adesso alla Corte Costituzionale. A breve è atteso il voto di altre assemblee legislative che hanno già preannunciato di voler recepire le proposte elaborate dalla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali e delle province autonome, concordati all'unanimità lo scorso 11 settembre. Delegati alla presentazione dei quesiti referendari per la Puglia saranno i vice presidenti del Consiglio Gian Diego Gatte e Peppino Longo, nominati dall'Assemblea all'unanimità per alzata di mano.